Ciao a tutti amici di Vanilla. Nel 1908 Berta Boronda venne condannata a 5 anni di carcere per lesioni permanenti. Nel caso giudiziario di Berta l'offesa fu assai grave e comportò il taglio del pene del marito con un rasoio da barbiere e la successiva fuga in bicicletta della donna camuffata da uomo. Ora vi starete chiedendo perché io abbia deciso di portare questa storia sul canale e mi sembra giusto spiegarlo. Chi scrive manuali di storia si concentra per esigenze di spazio sui grandi casi, re e regine e lotte di potere, lasciando da parte la descrizione delle vicende delle persone comuni. La bellezza di studiare episodi singoli come questo è che ci fanno entrare nelle case della gente comune, negli appartamenti con due camere e un bagno, discutendo riguardo la vita di persone che, come la stragrande maggioranza di tutti noi, non ha lasciato un segno riconoscibile nei libri di storia. E allora parliamo di Berta e Frank, una coppia come tante altre negli Stati Uniti di inizio novecento che, a causa del gesto in consulto di uno dei due, è rimasta celebre a un secolo di distanza. Prima di farlo chiedo agli spettatori non iscritti di… beh, lo sapete già, aiutateci a parlare di storie come queste, quelle che non si trovano sui libri di storia, iscrivetevi a Vanilla Magazine. Grazie mille. Berta e il marito, Frank Boronda, erano sposati da circa sei anni, quando la donna assalì e mutilò l'uomo. Per meglio comprendere un caso tanto strano nell'America d'inizio novecento, è bene partire dall'inizio. Frank nacque Mario Narcisso Boronda nel 1863, da una grande famiglia di origini messicane che viveva in California da diverse generazioni. All'epoca dell'attacco, Frank aveva 43 anni, era un capitano dei pompieri del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San José, nel nord della California. Berta Zettle nacque nel 1877 da genitori immigrati tedeschi nel Minnesota. Si trasferì in California intorno al 1900, dove sposò Frank l'anno seguente. Poco dopo la mezzanotte di venerdì 30 maggio 1907, Berta tagliò il pene di Frank con un rasoio, un episodio che avvenne nella loro casa di San José. Frank riuscì a raggiungere la sua caserma dei pompieri vicino a casa e da lì venne portato all'ospedale dove fu medicato. Il taglio era tanto grave che si temette per la sua vita. Nonostante il dolore, riuscì a dichiarare che la moglie lo aveva assalito dal nulla. Lui e Berta stavano chiacchierando e lei lo aveva assaltato, amputandogli quanto era riuscita dei genitali. Nel frattempo Berta era scomparsa dalla scena del crimine e non fu scovata sino alle prime ore della notte seguente. Si trovava nei pressi della ferrovia di San José vestita con abiti da uomo. Arrestata dagli agenti di polizia, ammise l'attacco a Frank e affermò che in realtà la colpa era dell'uomo, che l'aveva minacciata di abbandonarla e di trasferirsi in Messico. Quello che segue è l'articolo del Santa Cruz Sentinel del 2 giugno 1907, pochi giorni dopo l'evento. Intervistato nella sua branda all'ospedale poco dopo mezzogiorno, il capitano dei Vigili del Fuoco, Frank Boronda, ha promesso di sporgere denuncia prima che il giudice Brown accusasse la moglie, Berta Boronda, del crimine di lesioni personali. Sebbene il mutilato sia ancora debole per le ferite, i medici dicono che sopravvivrà. L'unico pericolo che deve affrontare è il rischio di infezione e setticemia. Il reato di cui viene accusata la signora Boronda è un crimine definito dal codice penale come segue. Ogni persona che illegalmente e maliziosamente priva un essere umano di un membro del suo corpo o lo renda inutilizzabile, taglia la lingua, il naso, un orecchio o le labbra, è colpevole di lesioni personali. La sezione 204 del codice afferma che le lesioni personali sono punibili con la reclusione nella prigione di stato per un periodo non superiore a 14 anni. Poco dopo la mezzanotte, giovedì mattina, la signora Boronda ha attaccato senza preavviso il marito al buio con un rasoio, mutilandolo terribilmente. L'uomo è corso urlando alla caserma dei pompieri di San Pedro a pochi passi da casa propria, mentre la moglie scappava per la strada con il suo abito da notte fino a North End, dove si era procurata un abito da uomo. Boronda è stato portato all'ospedale dove è stato medicato. Per diverse ore la polizia ha cercato la donna, trovandola infine nei pressi del deposito di Broadgage mentre era in sella a una bicicletta su cui sperava di scappare. È stata portata nella prigione della città, dove è ancora detenuta. La signora Boronda ha ammesso alla polizia che ha ammutilato il marito, ma non ha espresso rimpianti per aver compiuto questo gesto terribile. La sua unica scusa è che voleva vendicarsi di Boronda, il quale voleva lasciarla per partire per il Messico. La signora Boronda non ha ancora assunto un avvocato, probabilmente verrà sottoposta al giudizio del giudice Brown lunedì. In seguito Frank Boronda si riprese dalle ferite. Bertha venne accusata di lesioni personali e venne giudicata colpevole e condannata a 5 anni di reclusione nel carcere di San Quintino nel 1908. Ora può sorgere naturale la domanda, perché Bertha assaltò il marito in modo tanto brutale? La ricostruzione dei fatti è interessante anche se sono passate ormai oltre 110 anni dagli avvenimenti. Frank era stato incarcerato qualche mese prima dell'assalto insieme a un altro capitano dei vigili del fuoco. L'accusa era che gli uomini fossero coinvolti in una frode elettorale e probabilmente sarebbero seguiti altri arresti e processi che avrebbero svelato la colpevolezza degli accusati. Risulta plausibile credere che Frank stesse contemplando una fuga in Messico dove aveva dei parenti, almeno finché le acque non si fossero calmate. Inoltre alcuni voci vedevano a Frank come un marito infedele e che la donna lo avesse mutilato in preda alla gelosia. Alle spalle l'uomo aveva un'altra storia dei problemi coniugali. La precedente moglie, Belle Dohan, aveva lasciato il marito per sposare Frank, tentando di suicidarsi senza successo un paio d'anni dopo. Belle affermò di aver tentato il suicidio perché Frank l'aveva abbandonata. La coppia divorziò nel 1895 e l'uomo sposò qualche anno più tardi Bertha. Bertha quindi mutilò l'uomo probabilmente in preda un attacco di gelosia e rabbia, con la concreta ipotesi di vedersi abbandonata come la moglie precedente dell'uomo. Vi starete forse chiedendo che fine fece la parte amputata di Frank nel corso degli anni. All'epoca non esisteva l'operazione di ricongiunzione sessuale in grado di riattaccare quella specifica parte del corpo mancante, e il bene di Frank divenne un oggetto leggendario nell'ambiente del tribunale californiano. Le voci volevano che la reliquia fosse conservata in un barattolo di formaldeide, nascosto in uno sgabuzzino del tribunale. Bertha fu infine rilasciata in libertà il 20 dicembre del 1909, dopo aver scontato meno di due anni della sua condanna. Lei e Frank non si riconciliarono mai, mi vien da pensare non ha torto almeno dalla parte dell'uomo, ed entrambi si risposarono. Frank con una donna di 33 anni più giovane di nome Josie Warburton, mentre Bertha lavorò in seguito come cameriera in un albergo di San Francisco. Sposò un vecchio vedovo, Alexander Patterson, nel 1921 a Los Angeles, ma anche quel matrimonio finì con il divorzio. Frank visse fino a 77 anni e morì nel 1940. Bertha morì nel 1950 all'età di 72 anni. Bertha non lo poteva sapere, ma un'ottantina di anni dopo, nel 1993, un'altra donna statunitense, Lorena Bobbitt, riuscì a tagliare parte del pene del proprio marito, John Bobbitt, finendo sui giornali di tutto il mondo e guadagnando una notorietà che Bertha non sognò neppure. In quel caso, la parte amputata venne ritrovata dalla polizia e fu riattaccata al corpo dell'uomo, consentendogli di diventare una celebrità del cinema luci rosse.